Benvenuti sul mio canale, dove di solito ripercorriamo la biografia dei personaggi più discussi del momento. Io sono Filippo e oggi vi racconterò la prima biografia di una nuova rubrica, dal titolo Biografie tematiche. Il titolo è indicativo, avrei potuto chiamare questa rubrica in altri modi, tipo Biografie strane, Biografie più uniche che rare... Fa cagare Biografie tematiche. Chi potrebbe avere l'infilice idea di chiamare una rubrica Biografie tematiche? Biografie strane? Eh. Questa nuova rubrica dà il titolo Biografie strane, che saranno storie di persone comuni alle quali è successo qualcosa di straordinario. Oggi mi tocca fare però un trigger warning, un disclaimer, una premessa, perché durante la narrazione racconterò qualcosa che potrebbe urtare la sensibilità di qualcuno, perché si parlerà di cancrena. Quindi se siete facilmente impressionabili, non vi impressionate. Dunque, io quello che dovevo dire l'ho detto, quindi cominciamo subito. Mettetevi comodi per ascoltare la vera storia di Malcolm MacDonald, l'uomo che visse per sei lunghi anni con un pene sul braccio. Ci troviamo in Gran Bretagna, a Norfolk, una contea dell'Inghilterra orientale. Contea amministrata dal duca Edward Fitzland Howard, che sto nominando solo perché mi ha fatto ridere vederlo vestito come una carta di Alice nel Paese delle Meraviglie. Lo faccio vedere qua da qualche parte. Ma andiamo per ordine, perché l'economia nella contea di Norfolk è come l'economia di qualsiasi posto che abbiamo studiato nei libri di scuola media, cioè fondata sulla pesca, l'allevamento e l'agricoltura, in particolar modo la barbabietola da zucchero. Perché vi sto parlando di Norfolk? Perché le condizioni socioculturali in cui cresce Malcolm sono determinanti nel dramma che segnera la sua vita. Malcolm nasce nel 1975, i suoi genitori non sono proprio un esempio da seguire, diciamo. Perché dovete sapere che quando Malcolm era solo un bambino, i suoi genitori hanno deciso di darlo in affidamento perché era molto vivace. Non stiamo qui a giudicare la scelta di nessuno, però prestate attenzione a questi episodi. Non stiamo qui a giudicare la scelta di nessuno, però prestate attenzione a questi episodi in cui Malcolm perde qualcuno da un giorno all'altro. Perché questo secondo me è il primo indizio di una serie che mi hanno fatto pensare che Malcolm possa soffrire di sindrome d'abbandono. La sindrome d'abbandono è un'emozione molto forte e dolorosa che si prova quando ci si sente abbandonati. Le persone che soffrono di questa sindrome possono sentirsi tristi, soli e disperati. Possono sviluppare ansia, pensieri ossessivi, problemi di autostima o come in questo caso, depressione. Ma torniamo alla storia di Malcolm perché passa qualche anno e suo padre fa di tutto per riottenere l'affidamento del figlio, riuscendoci. Neanche il tempo che ve l'ho detto che già ha dovuto lasciare Malcolm la nuova famiglia in cui era stato affidato per ritornare da suo padre. Malcolm però è ancora un ragazzino, adora le bici e lega moltissimo con suo padre per questa passione che hanno in comune per le bici, le motociclette. Purtroppo però suo padre lavora circa dieci ore al giorno e spesso Malcolm gli chiede tipo di passare del tempo insieme, di aggiustare la bici insieme perché gli si è rotta. E suo padre risponde sempre dopo quando torna da lavoro. Così già da ragazzino impara da autodidatta ad aggiustare la bici, queste parti meccaniche da solo per poter usare la bici per poter uscire e andare a giocare. Questa passione per la meccanica che ha Malcolm la coltiva per anni fino a quando realizza il suo sogno, cioè guidare una moto da cross. Non una moto qualunque ma una che ha costruito di sana pianta lui da solo insieme a suo padre. Un giorno però così di botto, di punto in bianco, a suo padre viene un infarto e muore. Malcolm si è ritrovato da un giorno all'altro catapultato nella vita adulta. Si è ritrovato a doversela cavare da solo e a dover pagare il funerale di suo padre. Non avevano molti soldi perché stiamo parlando di una famiglia povera. Ha dovuto vendere la moto che avevano costruito insieme per potergli pagare una sepoltura. La vita per Malcolm è come un susseguirsi di alti e bassi, dove però i momenti bassi derivano sempre dall'essere rimasto da solo. Malcolm si trova in una fase difficile della sua vita e nonostante ha compiuto la maggiore età si comporta come un adolescente in modo irresponsabile e imprudente. Il motivo di questo comportamento credo che possa essere legato al lutto che non ha elaborato completamente. Malcolm, come sappiamo, ha sempre avuto un atteggiamento ribelle, no? Iperattivo nei confronti della vita già da piccolo. Ma ora sembra avere superato ogni limite. Inizia a frequentare cattive compagnie, a bere alcolici, a fare uso di sostanze, a fumare sigarette in continuazione. Questi comportamenti autodistruttivi sono solo l'inizio di una lunga serie di azioni illegali che porteranno Malcolm ad essere arrestato per furto e guida senza patente. Malcolm viene portato in prigione dove inizia a riflettere sulle sue scelte, sui suoi errori e a poco a poco Malcolm capisce che il suo comportamento non gli ha portato altro che guai e sofferenza e quindi che è ora di cambiare vita. Dopo questo periodo difficile, Malcolm riesce a prendere di nuovo il controllo della sua vita e a circa 30 anni decide di fare qualsiasi tipo di lavoro gli piaccia. Ha provato a fare il muratore, ha fatto l'operaio, il meccanico, tutti i lavori che gli permettono di sentirsi libero e indipendente. E perché no, un uomo più attraente per le donne, no? Socialmente accettato. In che senso? Perché prima non lo erano. Un drogato, un ribelle, tossico, ladro, era socialmente accettato secondo te? Beh, attraente sì. Malcolm incontra una donna, si piacciono, iniziano a frequentarsi e si innamorano. Decidono di andare a vivere insieme e prendono una casa, dopo qualche tempo hanno anche un figlio insieme e Malcolm è molto felice di questa cosa. Si chiede se gli piacerà a suo figlio andare in bicicletta e promette a se stesso di non dirgli mai di no, quando suo figlio chiederà tipo di fare cose insieme, come riparare appunto la bicicletta. Immagina anche di costruire insieme a suo figlio una moto insieme. Insomma, cose giustamente, fantasie che vengono in mente quando si è felice, si vuole fare qualcosa che non si è avuto, no? Insomma, Malcolm in quanto uomo di casa deve, per imposizione sociale, no? Essere il capofamiglia che porta il pane a casa, che garantisce tutto a casa, no? Come cantiamo allegramente in una filastrocca per bambini, batti, batti le manine, che viene papà, porta tante cose belle e se ne va. E se ne va. Cioè, e se ne va è fondamentale. Che cosa succede? Purtroppo però, dopo il parto, con la compagna, la relazione si va deteriorando. Molto probabilmente proprio perché questo aspetto delle porta tante cose belle e se ne va, Malcolm non la gestisce proprio bene. In che senso non la gestisce bene? Non lo capito. Cioè, non lavorava. Non sempre. No, non lavorava è un parolone. Non aveva il posto fisso. La relazione si deteriora ogni giorno di più fino a quando i due arrivano al culmine con la separazione. Malcolm finisce letteralmente in mezzo a una strada e un suo amico gli offre il suo garage come alloggio momentaneo e soprattutto gratuito. Un garage nel quale Malcolm vive con solamente un letto, un divano e una televisione. È un garage, quindi non ha neanche la finestra, ok? Ha il portellone che si apre, buongiorno, si chiude, buonanotte. Sembra meglio di stare in mezzo alla strada e per certi versi è così, ma vivere in un garage senza finestra, senza bagno, senza condizioni igieniche sane, non può che portare alla rovina dello stato di qualsiasi condizione di salute e soprattutto di salute mentale. Malcolm per qualche motivo però non si ribella, non si lamenta e non fa neanche pena alla sua ex compagna e a questo suo amico. E a me viene da sospettare che possa essere perché Malcolm è un maschio, è un uomo, è un uomo, è forte, deve essere forte e deve anche sapersela cavare da solo. Il figlio dunque rimane con la madre e Malcolm vive in questo garage. Come se non bastasse inizia a lavorare sempre meno e sempre peggio fino a non lavorare più e ad aumentare il numero di sigarette fumate e di birre bevute al giorno. Parliamo di circa due pacchetti di sigarette e 18 birre al giorno. Non posso diagnosticare una depressione, non posso essere sicuro che la depressione sia stata causata dall'ennesimo abbandono e che sia degenerato in un autolesionismo passivo, ma lo sospetto. In soli sei mesi, sei mesi è durata questa vita in garage, ok? In soli sei mesi Malcolm arriva in fin di vita. È il 2014, tenetevi bene in mente questa data perché più avanti ci servirà. E che succede? Allora, andiamo per ordine. Perché per prima cosa a Malcolm spunta un bozzo, una pallina dolorosissima nel perineo. Dov'è il perineo? Tra le palle e il buco del culo. Questa pallina è un ascesso che gonfia fino a raggiungere le dimensioni di una pallina da tennis ed esplode da sola. Malcolm in tutto ciò non dice niente a nessuno, probabilmente perché è un problema intimo che può mettere a disagio, ma un motivo di credere è che non si curasse minimamente della sua salute, tanto che non contatta un medico e non va neanche in una farmacia, niente di niente. Questo ascesso, qualche settimana dopo, torna più forte e doloroso di prima. E Malcolm, non appena questo ascesso raggiunge le dimensioni della prima volta, lo fa esplodere lui bucandolo e schiacciandolo. Non so se c'è bisogno di dirlo, ma non fatelo. Non si schiaccia un brufolo, figuriamoci un ascesso perianale. Adesso vi racconterò un episodio in particolare che fa rabbrividire. Allora, Malcolm si è schiacciato per la seconda volta all'ascesso e senza medicazioni, medicine, niente di niente, continua la sua vita in garage tra birra e sigarette. Un giorno, nella penombra del garage, Malcolm si accorge che le dita delle mani e dei piedi sono diventate nere. Cerca di lavarle, non capisce bene cosa stia succedendo. Apre il portellone del garage per vederci meglio e ha la conferma che le sue dita effettivamente siano diventate proprio nere. Si insospettisce. Un campanello d'allarme si accende. Perché le dita sono nude, sono estremità che abbiamo nude. Il coso no. Quindi va a controllare se anche il coso sia diventato nero. Ed effettivamente è così. Lo muove per vedere meglio se... Anche sotto, no? Per guardarlo bene a tutti i lati. E si stacca. Si stacca. Gli resta in mano. Il coso. Il pene. E che cosa fa? Lo butta nel cestino. Tipo e si va a accendere un'altra sigaretta. Con questo gesto ha detto tutto. Più di quanto si possa dire con le parole. Prima di continuare a raccontarvi cosa è successo, analizziamo questo gesto insieme. Malcolm è disperato. Questo credo sia evidente. Non sa come riprendersi dal divorzio. Infatti uno dei sintomi di chi soffre della sindrome d'abbandono è il non essere capace di trovare metodi per stare meglio. E da sei mesi da solo in un garage. E la società, gli amici, la sua ex, tutti quelli che gli stanno intorno lo guardano come un uomo fallito. Un maschio non abbastanza forte da riuscire a riprendersi da solo. In quel coso che Malcolm butta nel cestino risiede la colpa e la responsabilità sua, personale. Persino trovarsi in quella situazione è colpa di quel coso che Malcolm butta nel cestino. Perché è colpa sua se lui si è innamorato. È colpa sua se ha fatto un figlio. In una cultura fallocentrica è il pene, no? È colpa sua. Ed è merito suo. Se tu sei un uomo abbastanza virile, abbastanza uomo, ok? Da essere ammirato e stimato. Cioè, secondo me, se tu butti una cosa, è perché ti fa... Cioè, la disprezza. Non stai buttando un panino, stai buttando un pezzo del tuo corpo. Il fatto è che lui in quel momento l'abbia buttato e non si sia disperato. Ah, mi è caduto il pene. Lui lo prende e lo butta. Cioè, perché sei arrivato a questo? In che livelli... Esatto. In che problemi... Cioè, il cervello si... Dov'era? Finalmente Malcolm ha capito che ha bisogno di aiuto. L'ambulanza arriva. Appena in tempo per salvargli la vita. Al pronto soccorso i medici non sanno cosa devono curargli prima. Perché Malcolm ha in corso una setticemia. Che sarebbe un'infezione del sangue che fa impazzire il sistema immunitario. Perché inizia ad attacchare se stesso. Praticamente, dato che l'infezione è nel sangue, il sistema immunitario attacca il sangue. E questo attacchere se stesso causa delle coagulazioni che finiscono per otturare il passaggio nelle zone più strette del corpo. Come, ad esempio, le dita, no? Le estremità. Ecco perché le estremità diventano nere. Malcolm è andato in pronto soccorso con una necrosi in corso e il coso è caduto perché è andato in cancrena. I medici non hanno potuto fare altro che diagnosticare l'assenza del coso e procedere con una procedura di ricostruzione chirurgica detta falloplastica. Dunque, non appena Malcolm è fuori pericolo di vita, i medici lo sottopongono a questa delicata procedura di ricostruzione chirurgica che consiste nel prelevare un lembo di pelle dal braccio sinistro. È importante che sia il sinistro. Sì, perché c'è l'arteria. Una vena dalla gamba destra. Insomma, i medici prendono alcune parti del corpo qua e là per ottenere un fallo di 15 centimetri. Che non hanno però dove trapiantare perché nel corso dell'operazione il parametro che segna l'ossigenazione del sangue nel linguine di Malcolm è troppo basso per permettere la sopravvivenza dei tessuti del coso, non a quello che hanno appena ricostruito. Come facilmente si intuisce, non è un'operazione ripetibile. Quindi la buona riuscita del trapianto è fondamentale. Non è che possono farne un altro coso. Costi quel che costi, quel rotolo cilindrico deve essere salvato. E non sapendo dove metterglielo, glielo mettono nel braccio. Esatto, nel braccio sinistro. Ovviamente sono tutti consapevoli che questa sia una soluzione temporanea. Una scelta dettata dall'emergenza. Concluderanno il trapianto quando le condizioni di salute di Malcolm saranno migliorate e l'ossigeno che arriva al linguine sarà tale da permettere la sopravvivenza dei tessuti, della pelle. Quindi fammi capire. Gli ricostruiscono il pene, glielo cuciano sul braccio e prima o poi comunque glielo sposteranno nel posto giusto. Sì, è stato un trapianto d'emergenza sul braccio. Potevano ricostruirglielo quando si sarebbe potuta fare l'operazione? Cioè, quando potevano metterglielo nel posto giusto? Non pensavano... Il parametro dell'ossigeno linguine, no? Dell'ossigeno del sangue linguine... Non pensavano che fosse così basso. Ma l'ho scoperto dopo! L'ho scoperto durante. Ma spiegaci! Sono interventi che durano tante ore. Ma lui in tutto c'era in anestesia totale? Certo. Malcolm passa quattro mesi ricoverato in ospedale e nessuno durante questi quattro mesi va a fargli visita. In ospedale viene inserito in un gruppo di sostegno e supporto morale. Ma neanche con loro Malcolm riesce a stare meglio. E come se non bastasse, Malcolm si convince che da quando ha perso il coso non è più un uomo che non può avere una vita normale, essere felice, aspetta e spera nella falloplastica per riuscire ad avere la sua virilità e poter tornare a essere un uomo. Queste parole fanno male, non a me, non a Malcolm, fanno male a tutti. Un uomo non è uomo perché ha un pene, ma per tutta una serie di emozioni, di gusti, di gusti estetici che per convenzione la società attribuisce al genere maschile. E lo stesso vale per le donne, che non sono donne perché hanno una vagina, ma per tutta una costellazione di fattori emozionali ed estetici che la società per convenzione attribuisce al genere femminile. Dopodiché la società si confonde, perché esistono un'infinità di altri casi in cui si può essere maschio, femmina o nessuno dei due, con o senza l'apparato riproduttore comunemente associato al genere. Riproduttivo. Insomma, quello che voglio dire è che un ragazzo senza pene non è meno maschio di uno col pene. E il fatto che Malcolm abbia dichiarato apertamente, senza dubitare, non sono più un uomo, non posso essere felice, non posso avere una donna. Adesso ti senti ancora uomo? E come potrei senza il pene? Non sono un uomo. E questo è il punto, il problema. E sai perché sono convinto che questa cosa sia una cazzata? Perché lui dice non posso avere una vita normale, non posso essere felice. Proprio prima che era felice. Ed è proprio questo il punto, neanche si rende conto che la sua vita, così come la sua normalità o la sua felicità, non dipendano dal coso. Questa è mascolinità tossica che dilaga in questa storia. Ci sta che Malcolm sta male, che si è sconvolto e tutto quanto. Ma se chi sta accanto a lui lo asseconda calandogli la testa, che per essere felice, avere una vita normale o addirittura un lavoro, deve avere un pene. Non mica deve fare l'attore con Rocco. Quindi un lavoro lo puoi trovare pure senza il coso, no? E invece no, perché Malcolm non lavorerà più dalla perdita del coso. Non lavorerà più. Vabbè, già non lavorava prima. Vabbè, ho capito. Tu dici è la mezza scusa, io dico è la mezza scusa. Ma lui non dice è la mezza scusa. Lui dice che per questa disabilità non può lavorare più. Perché, scusami, deve portare... Cioè, insieme ai documenti, al permesso di soggiorno, lo deve pure uscire dai colloqui. No, 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 no. Attenzione. Ce l'ha sul braccio. Ah! E nessuno vuole a uno col pene sul braccio a lavorare. Ti devo dire! Prima di continuare, vi ricordo che tramite il link che trovate giù in descrizione, verrete trasportati nel magico mondo di pampling. Magliette, quasette... A proposito di quasette, con il codice biografo potete scegliervi un paio di calze gratis. Malcolm, grazie al sussidio di invalidità, si affitta una casa e piano piano le ferite guariscono. La sua vita, però, è cambiata per sempre. Adesso, al posto del coso, ha un moncherino senza muscolo e non riesce a controllare neanche il flusso della pipì. Indovinate... Dal braccio? Ma scusami, ma la pipì la faceva dal braccio? Cosa me la faceva la pipì? Dall'emmozzo... Dall'epena emmozzato che aveva nel linguine. Indovinate in che anno siamo quando Malcolm è pronto per il trapianto delle cose che ha sul braccio al linguine? E' il 2019. Quanti anni dopo? Circa quattro. E dato che, come vi raccontavo poc'anzi, Malcolm reputa troppo importante questo intervento per la sua vita, non si organizza bene per il trasferimento all'ospedale, perché è da Norfolk che deve andare a Londra, e perde l'appuntamento che viene inevitabilmente rimandato a data da destinarsi, perché ovviamente Malcolm sta usufruendo della sanità pubblica, dato che non potrebbe mai permettersi un intervento che costa 50.000 sterline. E cosa succede? Nel 2020 succede che, per colpa della pandemia, Malcolm ci resta fottuto perché l'intervento continua a essere rimandato perché giustamente hanno altre priorità le strutture sanitarie. Ma come vive Malcolm con questa protesi dalla forma inconfondibile che penzola dal braccio sinistro? Malcolm nel 2020 compie 45 anni e da quasi 6 anni vive con questo enorme disagio. In realtà sono... Enorme quanto? 15 centimetri. In realtà... Potevano abbondare però... Hanno abbondato. In realtà sono due disagi, ma non so quale dei due sia peggiore, se l'assenza del coso o la presenza del coso sul braccio. Malcolm, ad esempio, non può uscire vestito con una maglietta a mezze maniche, non può andare in piscina. Perfino abbracciare qualcuno gli diventa profondamente imbarazzante, perché abbracciandolo sto coso rischia di sbatterglielo in faccia. Una volta d'estate, Malcolm lo aveva nascosto sotto una fascia. Tipo questa. Cosa nascondi lì sotto, Filippo? E' andato a bordo della sua bicicletta a fare la spesa al supermercato. Avendolo fasciato al braccio, Malcolm se ne era dimenticato. Si è vestito con la maglietta a mezze maniche. E mentre sta facendo la spesa, con il suo carellino, una signora, che non riesce a prendere un ammorbidente perché è posto troppo in alto, chiede a Malcolm la cortesia di prenderglielo lui. E senza pensarci, Malcolm allunga il braccio, sbilanciandosi no per prendere l'ammorbidente, e la fascia gli si slaccia facendo sciondolare il coso davanti lo sguardo incredulo e sconvolto della signora. Ora, il coso ha un nome, si chiama Jimmy. Dopo tutti questi anni Malcolm ci ha dato un nome, si chiama Jimmy. E non era abbastanza imbarazzante. Lo chiameremo Jimmy invece di coso, ok? Arriviamo così al 2021, quando finalmente i medici organizzano per Malcolm il trasporto fino all'ospedale e gli fanno sapere il giorno dell'intervento. Perché lui non è stato capace di organizzarselo da solo? No, 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 mi da Norfolk a Londra c'è un sacco di strada. Quindi ci vogliono messi costosi? Certo, lui è con la bicicletta. Un autista lo va a prendere a casa e lo accompagna in clinica. Malcolm durante il tragitto è terrorizzato. Da una parte non sa cosa aspettarsi, non riesce a credere che questa sarà la volta buona, e dall'altra è preoccupato perché l'intervento dura circa nove ore. Ma l'unica cosa che realmente gli interessa è che rimettano Jimmy al suo posto. Il giorno tanto atteso arriva e Malcolm entra in clinica portando con sé solo uno zaino. E finalmente i medici compiono il miracolo. Malcolm esce dalla clinica due settimane dopo l'intervento e racconta che quando si è svegliato subito dopo l'operazione la prima cosa che ha fatto è stata guardare in basso ed esultare. Dopo due settimane ancora le cicatrici sono fresche e fanno male. Malcolm è tornato a casa, però Jimmy ancora non funziona. Dovrà sottoporsi ad altri interventi per permettergli di urinare, di avere rapporti sessuali. Ma adesso Malcolm vede la luce in fondo al tunnel. Dice, parole sue, Non può andare sempre male così a lungo. Finalmente vedo la normalità, la fine del delirio, lavoro, donne, del tempo con la famiglia. Che giustamente gli precludeva il tempo con la famiglia, avere il pene sul braccio, fammi capire. A quanto pare non si vedevano con... Perché tipo i figli si impressionavano, fammi indovinare. La storia di Malcolm solleva importanti questioni sulla mascolinità, perché la cultura patriarcale è stata storicamente incentrata sull'idea che l'uomo debba essere forte, virile, sessualmente dominante, con Jimmy come simbolo di questa virilità. La storia di Malcolm la potete trovare su Real Time, insieme ad altre due storie che hanno in comune solo la mascolinità in una società fallocentrica. Ma Real Time non analizza il punto di vista sociologico o psicologico di queste storie. Ad esempio viene raccontata la storia di Lee, un uomo che è nato donna, manco viene detto, che nasce senza il pene, comunque, e che è stato lasciato dalla sua ex con queste parole. Mi dispiace Lee, ma io voglio un pene. Lee, quando si racconta per Real Time, si è già sottoposto alla falloplastica, dieci anni prima. Quindi è tipo soltanto l'hanno messo là, soltanto come una storia da inserire, perché ha appunto questa cosa in comune della cultura fallocentrica che senza il pene non sei maschio. Confessa che avrebbe dovuto operarsi prima per riuscire a essere amato. Storie come questa ci fanno capire che la problematica vissuta da Malcolm non riguarda il suo essere un uomo senza un pene, ma che senza un pene non sei riconosciuto come un uomo. Mi spiego meglio, Malcolm non ha vissuto nella sofferenza per mancanza di sesso. Perché ti manca il pene e non puoi avere rapporti. Infatti Malcolm non ha mai detto che ha sofferto perché sessualmente l'assenza del pene gli impediva di essere felice, di avere rapporti sessuali. Infatti persino non lavora perché ha perso il pene, ce l'ha sul braccio. Insomma, non è un problema per lui, è un problema per gli altri. Ma passiamo alla terza storia che ci viene raccontata su Real Time. quella di Anik, un uomo nato con la sindrome da insensibilità androgenetica parziale che a noi ha permesso la crescita del pene. Da piccoli sui genitori, non vedendo il coso, lo hanno cresciuto come se fosse una femmina. Aspetta, ma lo sapevano che fosse maschio? Sì. Cioè sapevano che era un maschio ma siccome non aveva il coso l'hanno cresciuto come una femmina. Cioè nel senso tipo lo vestivano da femmina, eccetera. Intorno ai sette anni Anik ha iniziato a soffrire questa mancanza. È come se non bastasse a vergognarsene. Più cresceva e più si vergognava e si nascondeva ad esempio dai suoi compagni di scuola per non farsi scoprire. Anik da ragazzo arriva al punto di volersi togliere la vita ingerendo tantissime pillole. Subito dopo però si spaventa e va a chiedere aiuto a sua sorella che insieme a sua madre lo portano subito all'ospedale e riescono a fargli una lavanda gastrica e a salvargli la vita. Anik si salva si sveglia e sente un'infermiera dire anch'io se avessi questo problema vorrei togliermi la vita. Anik si sottopone e negli anni ha più di 15 interventi dolorosissimi perché alcuni non vanno a buon fine. Andiamo adesso al Daily Show con Trevor Noah per Comedy Central. Dice chi c'entra così perché l'ho trovato abbastanza mi ha fatto abbastanza girare le bolse. Trevor è un conduttore attore comico e scrittore che nel 2022 in seguito all'uscita del documentario di cui vi ho appena parlato quello di Real Time fa un monologo in cui parte divertente e poi secondo me la scafazza perché dice che Malcom in seguito a una infezione ha perso il pene e invece di accettarlo cioè invece di accettare di vivere senza una parte del suo corpo i medici hanno fatto di tutto pur di salvare il suo coso vedi sti medici e glielo hanno persino attaccato sul braccio e lui dice glielo hanno fatto crescere sul braccio addirittura. Trevor nel suo monologo usa Malcom come esempio di quanto il sessismo ospedaliero tuteli il maschio e i suoi diritti di autodeterminazione e non le donne. Apriamo parentesi perché negli Stati Uniti nel 2022 la Corte Suprema ha abolito la sentenza Roe Wade che garantiva il diritto di interrompere la gravidanza a livello federale rendendo così ogni stato libero di decidere se e quando rifiutarsi di far abortire una donna. La problematica già delicata di suo diventa più grave in Texas dove un disegno di legge non ancora in vigore credo vieta l'aborto già dalla sesta settimana di gravidanza cioè da quando una donna scopre di essere incinta. Chiusa parentesi Trevor scherza sui miracoli della medicina che si menta di tutto pur di ridare a un uomo il suo strumentopolo mentre le donne dice Trevor dovrebbero tornare a vivere nel 1849. Trevor ammette che siano due cose diverse un aborto e un coso sul braccio ma dice è la dimostrazione di come viene trattata diversamente la salute riproduttiva di uomini e donne e critica chi sostiene che l'aborto vada proibito. E dice Trevor nel frattempo un uomo però perde il pisello e sembra occuparsi nell'Iham Nison uno che lo cita cita un suo film in cui tipo dice non importa cosa ci vorrà e quanti sforzi e quanto tempo ci vorrà ma noi ridaremo un pene a quest'uomo. Ora ho una domanda il diritto di un uomo ad avere delle cure mediche non può convivere con il diritto della donna a ricevere altrettante cure mediche cioè il diritto di ogni persona dovrebbe essere ogni volta che si attacca un diritto si fa cattivo gioco all'inizio del monologo Trevor ha detto che i medici invece di fargli accettare il fatto di essere rimasto senza un pene hanno fatto di tutto per ricostruirgliene uno eh sì ma che vuol dire non è questo che dovrebbe fare un medico aiutare con il massimo della tecnologia della possibile se devono soffrire visto che soffre una donna che non può abortire allora pure lui il fatto che molte persone si sentano in diritto di decidere sulle vagine degli altri questo è il diritto che andrebbe tolto che andrebbe abolito bene io direi per oggi di fermarci qui grazie per essere arrivati fin qui per esservi iscritti al canale per il mi piace per sostenere questo canale così tanto affetto ci vediamo prestissimo con una nuova biografia e adesso il contenuto extra ormai lo dico questo o questo non so dove lo metterò è Walter nudo questo è Walter vestito e questo è Walter mentre esprime pareri e consigli di cui il mondo non ha assolutamente bisogno sentiamo allora sono Alinate e sto vedendo questa pubblicità qua pubblicità di Valentino vedete ok allora in questa pubblicità non so voi ma io non vedo nessuna masculinità e nessuna femminilità e se questo è il messaggio che diamo soprattutto ai ragazzi che lo vedono i ragazzi non hanno punti di riferimento non hanno basi quindi se non escono fuori di testa con questa confusione è normale se vanno da un psicologo o un genere da un psicologo è normale perché noi non li aiutiamo per niente quindi cerchiamo di essere un pochettino più chiari noi adulti ok noi vaccinati cerchiamo vaccinati lasciamo pelle noi grandi cerchiamo di avere un po' più di responsabilità di far capire ciò che è maschile e ciò che è femminile perché in una coppia questo è importante intanto se c'è qualcuno confuso sei tu perché i punti di riferimento dei giovani non devono essere mica il maschio e il maschile e il femminile secondo uno stereotipo ignorante come il blu per i maschi e il rosa per le femminucce ora rendiamoci conto che tra qualche anno i nostri nipoti se non distruggiamo il mondo prima ci prenderanno per il culo perché mettevamo la scritta nei negozi di scarpe per uomo e per donna che è una cosa ridicola c'è in tantissimi negozi non solo quelli di scarpe che addirittura ti mettono lo stesso identico modello però quello per le femmine costa meno e arriva fino alla 40 quello per i maschi costa di più arriva fino alla 47 a Alaska in qualsiasi posto andiamo ci prendono le cose rosa a quella ci piace il blu questo aveva raccontato l'altro giorno se andate a comprare gli occhiali da sole gli occhiali da sole c'è capito le scarpe c'è la scusa c'è la scusa della misura ma gli occhiali da sole che tu sai quando dalla tizia le chiedo degli occhiali da sole per bambini ah le ho chiesto dove sono gli occhiali da sole per bambini e mi ha detto ce li ho nel cassetto è maschietto o femminuccia già è femminuccia e mi ha preso cassetto di occhiali rosa con i glitter nella mia testa ho detto se Alaska se mi presento da Alaska con una cosa del genere mi guarda tipo perché mi fai ciò perché mi bui male però vedi scusa Alaska si è provata aspetta se hai capito sei la femmina che vuole gli occhiali blu ancora ma io sono sicuro che se fosse il maschio e volere gli occhiali rosa il motivo è semplice perché l'uomo comunque è considerato simbolo di forza no come dicevi tu all'inizio è di dominio di potere quindi la donna che aspira ad essere potente come un uomo diciamola in termini semplicistici figo fa bene ma se l'uomo si vuole declassare alla fragilità femminile fragilità femminile cioè sei scemo poi caro Walter ignori che nessuno probabilmente abbia mai raccontato a uno psicoterapeuta di avere bisogno di sostegno psicologico perché non capisce più cosa sia da maschio e cosa da femmina semmai che il giudizio di persone come te possa aver mandato qualcuno dalla psicologo mi sembra più plausibile i punti di riferimento che dovrebbero imporre i grandi o gli adulti come hai detto tu mio caro Walter e se proprio lo vuoi sapere sono dettati dalla convenienza sociale di un'altra epoca tra l'altro che per fortuna non ci appartiene più come l'esperimento della scimmia imparatrice lo conosci? ho fatto un esperimento con delle scimmie in cui veniva addestrata una scimmia ad aprire una scatola e quando sta scimmia riusciva ad aprire questa scatola veniva premiata con un frutto poi hanno messo all'interno di questa gabbia altre scimmie non addestrate e la scimmia addestrata insegnava alle altre scimmie ad aprire la scatola per ottenere il premio ma nessuna scimmia ha mai ottenuto il frutto poi hanno tolto la prima scimmia addestrata che aveva ricevuto il frutto e le altre scimmie continuavano a insegnare alle altre scimmie che arrivavano ad aprire la scatola perpetrando un comportamento senza neanche sapere perché e noi questo quello che facciamo Walter le scimmie imperatrici imparatrici questo si chiama apprendimento sociale comportarsi in un modo perché lo hai visto fare ad altri ma non sai neanche perché e comunque si è capito che per paura di perdere i propri punti di riferimento e quindi non sapere più come fare per essere socialmente belli socialmente accettati socialmente amabili mancherebbe la terra sotto i piedi qualora queste certezze non venissero a mancare se ti metti una canottiera bianca sporca di sugo e i pantaloncini grigi con le pantofole e le calze bianche puoi uscire di casa e nessuno ti insulterà se aggiungi un paio di chierose no 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 se sei femmina ed esci senza trucco spettinata sporca di sugo ti schifia se ti fai crescere i peli pure mentre se mi sbarbo mi alliscio mi sistemo mi trucco se ti curi troppo ho so cioè ho il controllo su quello che gli altri pensano di me e viceversa non è maschio se tu insomma amici miei forza diciamolo tutti insieme così stacco e basta oh oh